Questa bellissima cagnolina si chiama Linda e fa parte dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Piacenza ed oggi è impegnata insieme ad altri amici a quattro zampe in una esercitazione per la ricerca di persone disperse. L'utilità di questi animali che sono fondamentali per queste ricerche? Sono cani preparati, svolgono un'attività di ricerca persone sia disperse in superficie che su macerie e il loro utilizzo è proprio il fatto di coprire ampi spazi con l'utilizzo del fiuto che è uno strumento fondamentale perché loro nelle correnti d'aria trovano le particelle d'odore umano e abbaiano al ritrovamento di queste imposture che possono essere coricate, sedute o purtroppo anche in altre situazioni a grosse distanze. Quanti sono i cani in forza alla vostra unità cinofila e c'è una razza particolare più utile di altre? Allora l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco è nazionale, in tutta Italia siamo 161, a Piacenza sono la sola. Le razze sono tutte in realtà cani leggeri però, non cani con il muso schiacciato, dai border collie ai labrador ai pastori tedeschi per cui qualsiasi cane con una fortissima motivazione al gioco e socializzazione sulla persona. Il Parco della Galeana è una location fantastica perché vicino alla nostra sede ci consente di lavorare bene e simulare nel piccolo quello che può essere una ricerca persona per cui con tutti i pro e i contro e tutte le difficoltà che troviamo in ogni momento. Quali sono le regole da seguire per una ricerca persona? La regola principale è quella che tutti gli enti devono parlare la stessa lingua, il coordinamento deve essere univoco come è stato oggi. Diamo qualche consiglio utile ai cittadini per chi si dovesse perdere magari in una zona impervia, cosa deve fare? Il consiglio prima di tutto è non andare mai in zona impervia da soli perché spesso capita che persone che lo hanno fatto da una vita tendano a continuare a farlo perché è sempre andata bene, invece potrebbe capitare l'imprevisto sempre. Poi è chiaro che se uno dovesse perdere, utilizzando il cellulare, chiamare subito le forze dell'ordine quindi quello che può essere il 115, 113, 112 o 118 se ci sono problemi sanitari chiaramente e se possibile adesso la tecnologia ci dà una mano perché ci sono tante modalità di utilizzo del cellulare per inviare coordinate GPS. Come intervenite? Cioè arrivate in un posto, c'è una persona dispersa, che cosa si fa per prima cosa? Allora per prima cosa c'è il nostro coordinatore delle emergenze che è Davide Mangia e di solito gestisce lui le emergenze insieme ai responsabili dei vigili del fuoco e da lì si fanno tutte le squadre, vengono attivate le varie zone in base all'ultimo avvistamento del punto di avvistamento del disperso e con il furgone dell'UCL e il pulmino dell'Associazione dei Lupi vengono tracciate le zone, le aree sui GPS da lì si formano le squadre e poi con i cani in battuta si vanno a formare e a cercare il disperso.